E ci saranno tante mamme e tanti bambini nella prima sfilata della nuova edizione del Carnevale di Putignano che si tiene domani. Vediamo nel servizio di Giorgio Demetrio come si preparano i maestri cartapestai. E' tutto pronto per l'edizione numero 623 al Via Domani del Carnevale di Putignano. Un patrimonio culturale per l'intera regione e per tutta Italia da custodire e da valorizzare costantemente con i suoi sette carri realizzati da maestri cartapestai e da maestranze forti di creatività e di professionalità invidiabili. Così si preparano negli hangar le squadre alle prese con gli ultimi ritocchi su strutture e colori. La manifestazione riproporrà il binomio indissolubile tradizione ed ecosostenibilità con l'uso per la realizzazione di sagome e sfondi dei carri, di montagne, di giornali riciclati e di colla che resta a base di acqua e farina. La sfilata inizierà alle 15.30, ticket tra i 5 e i 10 euro per le quattro esibizioni del mese con accesso gratuito per bambini e putignanesi. Un contributo fondamentale, evidenzia il presidente della Fondazione Carnevale. Mi auguro che quest'anno venga tantissima gente e paghi il ticket per supportare questa grandissima manifestazione. Non è un caso che noi abbiamo introdotto questa forma di sostentamento perché altrimenti queste opere non potranno più avere modo d'essere. Tema dei carri di quest'anno, la mostruosità nella chiave delle contraddizioni e delle strutture della nostra società dalla deriva social alla piaga femminicidio. Il segreto per veicolare con efficacia messaggi di impatto sociale lo spiega il vincitore della scorsa edizione. Basta sentire dentro, avere un po' di rabbia verso qualcosa, insomma, poi tutto esce naturale. Il bozzetto poi viene velocemente fuori. Questo è importante, insomma, avere un po' di rabbia, lanciare un messaggio e cercare di farlo reperire al meglio al pubblico che verrà a vedere la sfilata.